Il primo a partire è Alessandro Lossi a Portura, a sua 316, pronto a dare lo start a questa prima vettura è il sindaco di Pela, che si parla di colore di un'unità, ufficialmente il via alle partenze. Paolo Rosselli ha il suo consenso allo scorrere dei secondi, fra poco il semaforo accende il rosso con il giallo. Pela Rosselli ha il suo consenso allo scorrere di un'unità, 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 un'unità. 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 Un'unità, un'unità. Un'unità, un'unità, un'unità. Un'unità, un'unità, un'unità. 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 Un'unità. Un'unità.